Ciao a tutti e buongiorno a tutti gli amici di Telereggione da Miss Morena, Morena Marangi per chi non mi conosce. Sono qui nella mia cittadina di Termoli a prendere un po' di sole ma anche a presentare il mio nuovo disco insieme a Mr. Hyde, The House of Love. Abbiamo presentato il nostro disco alla Calasveva, è stata una serata meravigliosa con tantissima gente dove abbiamo anche presentato in questa occasione il nostro nuovo format Relax is in the Air. Un format fatto di canzoni funky house tutte quante riarrangiate e quindi sono stata io che le cantavo, le interpretavo e Mr. Hyde che appunto suonava questo DJ set. Quali sono i tuoi prossimi impegni? I prossimi impegni sono la quarta stagione di All Together Now che mi vede protagonista ancora una volta e sarà in onda a dicembre durante le vostre vacanze natalizie. Seguite All Together Now su canale 5 in prima serata perché sarò nel muro, nella giuria tecnica di All Together Now presentato come voi sapete dalla grande Michelle Unziker e J-AX. Sei presente sin dalla prima edizione se non ricordiamo male. Sì sì, sono sempre stata presente sul muro di All Together Now, da è la prima edizione quindi quest'anno facciamo la quarta edizione ma ci saranno delle novità. Un successo che si consolida a livello televisivo, a livello discografico, che altro c'hai nel cassetto? Stiamo producendo nuovi pezzi che andranno a formare un disco che presto arriverà alle etichette estere e mondiali. Il nostro disco The House of Love è stato prodotto dalla J-Walk Records e stiamo producendo nuovi pezzi che andranno a comporre un disco che presto uscirà a livello internazionale. Come hai trovato la nostra Termoli? Termoli l'ho trovata sempre più splendida, Termoli l'ho trovata sempre più colorata. Fortunatamente anche durante il Covid ho visto nuove aperture, quindi vuol dire che la gente ha voglia di ripartire, nuove attività commerciali. Quindi forza Termoli perché tra dieci anni sarà un'esplosione di gioia questa cittadina. Is my love for you? Oh my darling, tell me why? Now I run to you again, but you give me your legate. And if we're a far out place, what means... And if we're a far out place, what means... And if we're a far out place, what means... And if we're a far out place, what means... And if we're a far out place... 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 Grazie.